3-3 con la cerrana, c'è un po' di amarezza per questo pari che è arrivato nei minuti finali? Sì, pure perché avevamo giocato una buona gara e poi farsi riprendere in 5 minuti e prendere due golle è da polli. Però sinceramente non posso recriminare niente, non posso dire niente a ragazzi che hanno dato tutto e secondo me hanno fatto una buona gara. Cosa è successo in quei 5 minuti? Come te lo spieghi? Un crollo fisico, anche psicologico, probabilmente simile? Diciamo che un po' fisiologico, un po' pure prendere il 3-2. Un po' fortunato, con un tiro sbagliato, recuperare quel pallone. Sì, ma eravamo fermi, il secondo gol che abbiamo preso stavamo ancora festeggiando il 3-1. Paradossalmente il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Sì, il 3-1 diciamo di sì, però va bene così. Come abbiamo detto prima anche con il Presidente, adesso bisogna comunque dimenticare questo pari, che neanche da buttare come abbiamo detto anche prima e bisogna assolutamente ricaricare le pire per questo rush finale con queste ultime tre partite che mancano alla fine della regola al season. No, ma noi dobbiamo continuare così, come stiamo facendo, stiamo facendo un buon campionato, continuare così e poi prepararci per i play-off, lo sappiamo, lo sapevamo già, e poi dare tutto e allenarci sempre in settimana. Un saluto anche per il pubblico, oggi ha corso davvero in tantissime unità. Sì, ma il pubblico a Casoria non è da meno, infatti volevo pure salutare l'amico Rullino e purtroppo non ci siamo riusciti a dedicarci questa vittoria, ci dedichiamo un pareggio che fa classifica, fa morale e ci fa ben sperare per il futuro.